Il cristiano include, non chiude le porte a nessuno, ha il cuore sempre aperto. Chi esclude e giudica perché si crede migliore genera conflitti e divisioni e ne renderà conto un giorno davanti al tribunale di Dio. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a casa Santa Marta. Comentando la lettera ai Romani di San Paolo, proposta dalla liturgia, il Papa ha sottolineato che l'Apostolo esorta a non giudicare e non disprezzare il fratello, perché questo ha spiegato porta ad escluderlo dal nostro gruppetto, ad essere selettivi e questo non è cristiano. Cristo infatti, con il suo sacrificio nel Calvario, unisce e include tutti gli uomini nella salvezza. Nel Vangelo poi si avvicinano a Gesù i pubblicani e i peccatori, cioè gli esclusi tutti quelli che erano fuori, e i farisei e gli iscrivi mormoravano. L'atteggiamento dei Romani, ai quali Paolo ammonisce da non giudicare e da discludere, l'atteggiamento degli iscrivi e dei farisei. è lo stesso, escludono. Noi siamo i perfetti, noi seguiamo la lesce, questi sono peccatori, sono pubblicano. E l'atteggiamento di Gesù è includere. Cioè le due strade della vita, la strada dell'esclusione delle persone dalla nostra comunità e la strada dell'inclusione. La prima può essere piccola, ma è la radice di tutte le guerre, tutte le calamità, tutte le guerre incominciano con un'esclusione. Si escludono della comunità internazionale, ma anche nelle famiglie, fra amici, quante élite. E la strada che ci fa vedere Gesù e ci insegna Gesù è tutt'altra. È contraria all'altro. Includere. Grazie. 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 Grazie.